Buonasera, qualche puntata fa vi ho parlato di un libro ormai introvabile, Voci dall'aldilà, scritto dal professor Konstantin Raudiv, un filosofo lettone che raccolse sei anni di esperimenti ben 72.000 comunicazioni verbali premissumibilmente provenienti dall'aldilà. Il professor Raudiv compì questi esperimenti servendosi di una apparecchiatura di registrazione abbastanza sofisticata e a volte anche di un microfono. Dunque queste comunicazioni raccolte appunto in sei anni, ben 72.000 ripeto, erano tali da poter senza alcun dubbio escludere che si trattasse di voci pronunciate da esseri umani provenienti da altre dimensioni, certamente non dalla nostra. Questo sistema di registrazione, anche se all'apparenza molto semplice, richiedeva l'uso di un magnetofono molto molto sensibile, di un microfono e a volte anche di una radio, una semplice radio. Il Raudiv si sintonizzava su una stazione dove c'era una portante, quindi senza trasmissioni e iniziava queste registrazioni. Una volta ottenute queste registrazioni, che non dovevano durare più di 10-15 minuti perché nel riascoltare bisognava essere molto molto attenti a queste voci che si evidenziavano dalla portante del segnale. Quindi non era sempre possibile riascoltando le registrazioni udire subito queste voci. Ma poi un'altra particolarità di questa raccolta di voci non erano quasi mai tutte quante comunicazioni in una stessa lingua. La lingua del professor Raudiv era in lettone, ma molte comunicazioni erano ottenute o in tedesco, in russo, a volte in spagnolo, francese, a volte latino, quindi anche lingue non più parlate. La stessa mamma del professor Raudiv, defunta da alcuni anni, comunicava con suo figlio in spagnolo, una lingua che la signora non aveva conosciuto in vita. Sulle origini di queste voci io non mi pronuncio, lo stesso professor Raudiv non si è mai pronunciato, ha lasciato che fossero gli altri a dare un giudizio. L'altra volta vi parlai appunto di questo, aveva in qualche modo coinvolto teologi, filosofi, scienziati, fisici, proprio per cercare di dare un'obiettività alla sua ricerca e alla sua sperimentazione. Io da parte mia penso che la cosa più giusta da fare è non dare un giudizio, non concludere e non precisare, dare delle interpretazioni rigide, ma mi limito come sempre ad osservare, sperimentare, studiare, perché questi interrogativi sulle varie forme di comunicazioni provenienti da quest'altra dimensione, dimensioni che sono ignote per il momento, non potranno mai avere una risposta se non un domani, aprendoci verso forme di sperimentazione non soltanto legate a quella che la scienza ufficiale propone per studiare questi fenomeni. Anche un'altra cosa importante, approcciarsi a questi studi di queste dimensioni ignote con molta molta attenzione, perché questo contatto con dimensioni ignote o ancora ignorate potrebbe provocare reazioni inconsce in chi si avvicina in maniera leggera, difficilmente controllabili e condurre a gravi forme di alienazioni, come spesso purtroppo capita. Insisto quindi che chi senta questa necessità di contattare altre dimensioni affronti questa incognita con una solida preparazione culturale, quindi informandosi, studiando, ma soprattutto con delle valide e precise motivazioni, non basta la curiosità. In genere chi si avvicina a queste discipline, le definisco così per praticità, è mosso da un desiderio di cercare un contatto con altre dimensioni, specialmente con le persone defunte, con coloro che ci hanno preceduto, principalmente per avere notizie sul loro stato, cioè come stanno, dove si trovano, oppure anche per avere delle risposte. Però c'è anche un'altra categoria di persone che io ho menzionato spesso, i cosiddetti iniziati, quelle persone, quegli individui che fanno di questa ricerca la loro ragione di vita per elevarsi verso piani superiori di conoscenza e di consapevolezza. Dunque questi contatti che gli iniziati ricercano non è tanto con la dimensione dell'aldilà appartenente a quelle che sono le persone defunte, ma con entità superiori che magari non hanno mai conosciuto la dimensione terrena, ma sono entità disincarnate, forze cosmiche, che possono in qualche modo illuminare e dare delle spiegazioni su quelli che sono i grandi problemi dell'esistenza e anche a volte, per alcuni che seguono quelle che sono le scienze ufficiali, anche delle illuminazioni. Eppure qualche volta sono anche gli stessi spiriti che ricercano questo contatto con noi. Normalmente noi in questa dimensione cerchiamo il contatto con l'aldilà, ma è capitato spesso e capita che sono gli stessi spiriti dall'aldilà, da questa dimensione sconosciuta e ignota, che vogliono un contatto con questa nostra dimensione terrena per dare delle notizie, per chiedere qualche cosa o anche per, vedremo più tardi, per in qualche modo valorare la loro causa. Oggi voglio raccontarvi un episodio veramente particolare, molto interessante per chi ama questo genere di fatti, ma anche che ci fa molto riflettere sulla vera essenza di quella che è l'esistenza, cioè per quale motivo noi viviamo, se siamo predestinati a nascere, oppure un caso. Questo episodio che avvenne qualche anno fa durante una banalissima, potremmo definirla, comunicazione medianica, cioè quindi durante una seduta spiritica, è un messaggio che uno spirito, una entità dall'aldilà, da questa dimensione parallela, volle portare a noi in questa dimensione. c'era in questa catena, perché ogni tanto noi organizziamo degli esperimenti ai quali vengono ammesse delle persone previa preparazione, perché molti mi chiedono è possibile partecipare a queste sedute, io vi dico è possibile, però bisogna essere predisposti, preparati, non è uno spettacolo, questo ci tengo a precisare. In una di queste serate dove c'erano degli amici già di catena consolidata, arrivò una signorina che già mi seguiva da molto tempo, una donna molto colta, intelligente, insegnante di musica, che però era un po' andata lì con gli anni, quella che viene definita purtroppo Zitella. Dunque, io quella sera avvertivo una strana energia nell'aria e a un certo punto cominciai a formare la catena, magnetizzai i partecipanti, feci recitare loro il mantra, che sono tutte fasi preparatorie della seduta, e ci mettemmo in attesa. Un'attesa che in verità durò pochissimo, molto poco rispetto alle altre volte. La forza che avevo percepito era di una tale irruenza, una tale energia positiva però, che in qualche modo, in qualche modo premeva per entrare, per manifestarsi. Il tavolino, pensate, che noi usammo per quella seduta, impazzito, correva per tutta la stanza e tutti i partecipanti, un po' comica come scena. A un certo punto, dopo che riuscì a calmare il tavolino, gli chiesi cosa volesse, e lo spirito disse di voler comunicare con la sua mamma. I presenti si guardarono tutti un po' perplessi, nessuno aveva per fortuna figlioli morti, e pensammo quindi subito a uno spirito burlone, ma il tavolino continuava in questa sua danza e lo spirito ad insistere, che voleva parlare con la sua mamma. E dico, ma chi è la tua mamma? E lo spirito, Mirella, è un nome di fantasia ovviamente, praticamente era la musicista. La donna era imbarazzatissima, perché era conosciuta da tutti come signorina, quindi dice, figli non ne ho mai avuti, cioè cosa penseranno mai di me? Allora io chiese allo spirito di spiegarsi meglio. Lo spirito precisò dicendo, leggo testualmente, Giovanni, mamma, otto mesi, entrerò, grande forza, inizio difficile, negato, lacrime, tu non mandare via, io voglio, io devo entrare. Sono parole scollegate, che apparentemente non hanno nessun significato, ma non prive di senso, come spesso accade. Ovviamente si sentivano colpi nei muri, non vi dico quello che ci fu quel giorno, una grande forza. Era uno spirito inquieto comunque. Quando tutto fu finito, nella consueta riunione per trarre le conclusioni della sulla seduta, ci chiedemmo il significato di quella comunicazione. Ma nessuno seppe darsi una motivazione. Dopo qualche tempo, però, la signorina Mirella mi disse raggiante di aver conosciuto un uomo, di essersi follemente innamorata, classico colpo di fulmine, e dopo qualche tempo, come spesso accade, quando l'amore è incontrollato, la signorina rimase incinta. E purtroppo il fidanzato non vuole sentirne parlare di matrimonio, si sentiva oppresso, le solite cose che gli uomini usano in questo caso. Dunque, le continue discussioni fecero rompere questo rapporto. Ci furono momenti di grande angoscia, la ragazza non sapeva che cosa fare, voleva purtroppo prendere una decisione definitiva, di mandar via questo bambino non atteso. Un pomeriggio venne da me per farsi consolare e prendemmo un tè. Mentre parlavamo, io ebbi la strana sensazione che quella sera ci fu un messaggio che veniva collegato a tutto questo. Collegammo gli eventi, presi il resoconto scritto di quella seduta, lo rilessi insieme a lei, ritrovando riferimenti impressionanti. Il bimbo che voleva nascere, eccolo, Giovanni, era il nome del padre defunto, del fidanzato, tutto tornava. Quel bambino voleva nascere e aveva anche previsto le difficoltà iniziali, il rifiuto del padre, ma aveva anche detto che dopo le prime difficoltà tutto si sarebbe risolto. La donna andò via risollevata e senza l'insano il proposito di mandar via la sua creatura. Come lo spirito aveva previsto, le cose si rimisero a posto. Passata l'incertezza e la paura, l'uomo si riavvicinò alla donna e decisero di sposarsi. Tutto questo in otto mesi, come aveva previsto lo spirito. Questo è un episodio straordinario che però non è isolato nel vasto panorama della casistica spiritica. Gli spiriti che si possono presentare in una seduta non devono per forza appartenere a persone defunte, ma possono essere entità che non hanno mai vissuto nella dimensione terrena, oppure come in questo caso spiriti in via di reincarnazione che caldeggiano la loro necessità di nascere. La reincarnazione è allo stesso tempo un enigma e una speranza che ci è possibile considerare che ciò che noi viviamo qui e ora non è solo l'unica possibilità di esistenza dell'essere, ma è un importante momento, un passaggio nel quale ci è consentito di scegliere le esperienze da fare per poter così pagare i debiti accumulati, vi ricordate del karma, ne abbiamo parlato, e risolvere i conflitti e le problematiche che magari in una sola vita non si riesce a risolvere. In questo una giusta comunicazione con altre dimensioni può aiutarci a comprendere e allargare l'orizzonte della nostra comprensione. Per questa sera è tutto, vi saluto, mi raccomando scrivetemi o telefonatemi, ci vediamo la prossima settimana. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.